Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. 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 Grazie a tutti. 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 This is... e... 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 e...